Caterina, Caterina vieni qua, dai Caterina In this enchanted place, seemingly timeless, rises in the belly of the mountain, this magical community, full of love, friendship, passion and commitment. True Stories presents Pietra Camilla, a diamond in the rock. Ciao, this is True Stories, Italy News. We report on international true stories and this is a new episode. I describe, well, for me it's my place. I'm here, I'm at home. I love animals, so I love gold. E non sei sola, perché qui abbiamo Pepita dietro di noi, ma quali altri abitanti ci sono? Ci sono le caprettennane, ci sono le galline, le ovaiole, poi ci sono anche delle galline da decoro, c'è un coniglietto e ci sono i cavalli. Poi c'è Panda, il nostro amico cane. Tu hai preso questa attività dalla tua famiglia, vero? Quindi da quanto tempo siete qui, compreso, diciamo, la generazione prima di te? Beh, mio padre sta qua, torno da Roma quando sono nata io e quindi, anzi l'anno prima, sono 39 anni che lui è tornato qua, questo comunque è il suo posto più intermesolano. Ha sempre avuto la passione per i cavalli e nel 2016 ho deciso di riprenderla, visto dopo la sua scomparsa, di tenere vivo il suo posto, però renderlo mio. Piano piano, speriamo di... Cosa ti piacerebbe organizzare quest'estate? Sicuramente, beh, laboratori per bambini e anche per famiglie, perché il mio obiettivo è quello di riportare i bambini, soprattutto i bambini della città, in mezzo alla natura. Quindi farli conoscere gli animali, la natura, giocare proprio con l'essenziale e quindi allontanarli anche un po' da quelli che sono gli schemi di oggi, quindi la troppa tecnologia che già si avvicina a loro in età troppo precoce. Sous-titrage Société Radio-Canada Vieni qua, rimani incastrato, ci metti le radici e non te ne vai. Si fa una grande difficoltà a mandare avanti, ma ci si fa perché si considera che la farmacia è un punto di riferimento per tutto, perché io oltre, essendo qua da tanti anni conosco tutti, conosco tutta la loro storia, tutta anche profondamente nell'intimo, tante cose, quindi diventi oltre che la farmacista anche un amico di famiglia, un parente. Quindi gioisci e soffri con loro. Per cui quella gente si curava con le erbe del posto e c'è stata una persona che è venuta a mancare qualche mese fa, che non voglio dire il nome però tanto chi lo sa lo conosce. Questa persona, novantenne, lui, tu pensa tutti gli anni che sto qua, non è mai venuto in farmacia, perché lui si curava solo con le erbe del posto. E' vero, eh. Il lupo, quando passa qui davanti, delle volte ce l'ho proprio davanti casa, sono riuscita anche a fare delle foto al lupo che sta qui. che scappava in piazza e questo per me, sai, il lupo porta fortuna quando lo vedi, no? Quindi mi piace tantissimo. Poi, che ne so, vedi un istrice, adesso ci sono i daini, i camosci e addirittura i cervi. E si sente proprio quel verso dei cervi che veramente, non è che sia proprio bellissimo come loro grugnito, non lo so come ti può chiamare, e che si sente dall'altra parte della montagna, la sera, oppure da sera, se all'imbrunire, dall'altra parte del fiume, sento sempre i lupi, ci dovrebbe essere, penso, un bel branchetto di una ventina di esemplari. e vederli è sempre una gioia, vuol dire che c'è posto anche per loro qua. Mi chiamo Florena e i miei paesi erano qui, i miei fratelli erano qui, i miei paesi erano qui, e i miei paesi emmigriano a Canada. And what we do in Pietra Camela Is exactly what it offers Which is nature Involvement in nature It offers just beautiful Spectacular walks in the mountains And we dial them up or dial them down Depending on the day and how we feel We are involved in The community events here And you might not think there are many But there are a lot And we are actually more socially engaged In Pietra Camela than we are In our own big city in Canada Believe it or not The food is fantastic The lady behind me is one of the best She has the restaurant here And we eat here a lot We cook our own stuff And just get the best ingredients That we can That's one of the biggest things that we do We go to the market, see what they have Buy the ingredients And then come here and figure out What we're going to do And that's it It's a very basic, simple life But we love it We love it Anytime I can speak about Pietra Camela I'd love to do so Because it's a gem It's our little paradise On earth It's wonderful It's wonderful village And that's why it's about That's why it's 속ata And it's your dream I would like you And do discut Angel Yeah I would like you Golden Perché praticamente qui da Pratitivo c'è una strada che sale e si dice infatti che si sale verso cima alta perché è il luogo dove si arriva in auto più alto della parte terramana dove c'è una bellissima visuale. Nei periodi dove non c'è nebbia e c'è il cielo limpido si riesce a vedere sia la costa marchigiana che tutta quella abruzzese fino ai coinfini del Molise naturalmente con lo sfondo del mare e abbiamo dietro il Gran Sasso quindi è un punto bellissimo. Perché penso che sia a livello proprio diciamo paesaggistico la nostra montagna parla da sola, anche gli animali hanno ripreso un po' il loro ambiente e mi è capito spesso anche di vederlo in maniera proprio molto vicina ed è una cosa bellissima, bellissima che non ti va neanche voglia di prendere il telefono per fotografarlo perché preferisci magari osservarlo così da vicino e non perderti nulla perché è meraviglioso lo sguardo, gli occhi, la profondità è meraviglioso. Io sono Valeria e la mia attività si chiama la Cantina dell'Orso. Anche quando da piccolina magari d'inverno stavamo a casa così di notte sentivi l'unulato dei lupi. Devo dire la verità io la prima volta che ho avuto la fortuna di vedere un lupo già ero grandicella, insomma guidavo quindi parliamo intorno ai vent'anni così. Oggi si sono avvicinati di più. Tradititivo, Pietracamela, Intermesoli, Cerqueto, Panadriano, Monte Arno, Pantarola, Villabrozzi, Teramo, Collegara. Grazie a tutti. Grazie a tutti. This was another episode of True Stories Italy News. Please like and subscribe for more.